salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi voglio portarvi ancora una volta moto gp io mi sono fatto più o meno le prove libere adesso comunque se sono dal vivo e vedere che comunque penso che comunque sto andando bene perché comunque possiamo mettere ovviamente termina la sessione no vabbè sessione dal vivo comunque vi stavo dicendo praticamente niente praticamente ho fatto le prove libere e come come possiamo notare sto cominciando la moto stanno cominciando a migliorare scusatemi se non so se si sente alto onestamente non ne ho idea però vediamo se definire queste prove libere vediamo di finire e poi andiamo subito in qualifica poi in gara allora vediamo come potrebbe andare allora io vado subito in pista non già come sta cosa cacchio ragazzi ho fatto danno va bene mi sa che ho ho disattivato la ma sicuro non capisco sta cosa sono di centesimo perché ma vabbè poi vediamo di capirlo con cam comunque ragazzi buttiamoci in pista e vediamo come va ho poca miseria scusatemi questo flashback vabbè il cacchio allora mannaggia hanno fatto hanno fatto un aggiornamento molto pesante di 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 3 giga mi sembra che era l'aggiornamento però non non capisco perché che vabbè fatto un piccolo errore ventisesimo ventisesimo non capisco perché non ho fatto le qualifiche vabbè spero che l'audio si senta bene ragazzi lungo 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 ulteriore mannaggia Questa mi sa tanto Oh porca miseria No ragazzi Sbagliato io Scusatemi Io per tagliare Eh va bene Non è che questa vista Mi faccia tanto impazzita Comunque Lo facciamo così Eh vabbè Troppi errori Sì un bel po' di errori Sto facendo Porca miseria Vabbè da Sto caldo è andata così Una gara di merda Ragazzi Però non capisco Perché non ho fatto Le qualifiche Boh È un mistero Un po' di un mistero Eh vabbè Vabbè Un po' di un mistero Ma un autocomputer Sta facendo Un caldo assurdo Sta mandando Un po' di un' Moz no ragazzi staccata è da dimenticare voi una gara da dimenticare decisamente decisamente proprio mamma ancora ma io non capisco perché non ho fatto le qualifiche poi piena di curve ecco qua che comunque che comunque sì ma anche se risolvono questo ragazzi non risolve il problema non cambia niente ragazzi non cambia niente proprio spero di rifarmi la prossima gara eh vabbè mi ha tamponato questo video uscirà un po' più corto ragazzi cazzo ragazzi eh vabbè no io non ce la faccio voglia sono proprio una schiappetta sono no non è proprio giornata forse non lo so guardate sta analizzando anche la gomma sta analizzando anche la gomma vincitore ma magari ho sbagliato io ragazzi e non dannati pazienza ragazzi pazienza se non è sempre festa pazienza perché vero vabbè dai ragazzi io direi voglio capire una cosa ecco perché ragazzi Q1 e Q2 ecco perché ragazzi vabbè dai ragazzi purtroppo sto video è uscito un po' così scusatemi è uscito un po' così scusate installato videozone consumo carburante a me mi interessa soprattutto il motore eh sviluppiamo che dopo fa ok il tempo ehm me ne mancano proprio vabbè ragazzi io direi che con questo video ci possiamo salutare qui spero che il video anche se mi sono fatto tante di quelle cadute spero che il video vi sia piaciuto come sempre ragazzi vi chiedo se volete iscrivetevi lasciate un bel like un saluto da Steffi ciao ragazzi e così grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.